Salve ai web spettatori di Nanotv, siamo con Foschini qui sul Corso Durante per raccogliere una dichiarazione sulla ZTL sì, ZTL no. Qual è la sua posizione signor Foschini? Io credo che sia indispensabile attuare l'isola pedonale a fratta maggiore non soltanto per una questione di salvaguardia del commercio frattese ma anche di salvaguardia della salute di tutti i cittadini. Questo è il mio pensiero, sta sempre questo qua e ci siamo sempre battuti a ciò che le amministrazioni che si sono succedute nel tempo attuassero questo tipo di programma. Lei è per una ZTL controllata o proprio per una pedonalizzazione del corso? Io credo che sia più giusta la pedonalizzazione del corso. Grazie, potrà vedere questo messaggio su napolinord.it. Grazie.